Bene, ci troviamo qua per vedere le nuove scarpe Adidas 510 Trail Cross Gore-Tex Wow, spettacolo! Andiamo un po' a vedere come sono fatte bene, no? Sono scarpe leggermente più alte con questo strappettino suolo adesso ad aprire suola dietro, suola centrale e suola anteriore vediamo qui la punta, uh, la punta è resistentissima Gorotex, quindi dovrebbero essere perfettamente impermeabili e qui nella parte alta non dovrebbe entrare l'acqua li proverò domani e vi saprò dire un attimo se sono comode oppure no un ultimo sguardo alle scarpe guardate qui che belle bellissime domani le testo ne andranno a fuoco i piedi ma le voglio provare comunque oggi signori andremo a testare le nuove scarpe Trail Cross suola nuova di pacca vediamo un po' come funzioneranno se è stato un buon acquisto avevo già quelle vecchie, estive adesso andremo a vedere quelle nuove invernali impermeabili scarpe nuove, ma che belle tac mavolose vediamo la tenuta in salita ottima tenuta anche sul sentiero smosso adesso apposta le scarpe nuove per provare a fare il guado ma ovviamente il guado è secco test scarpe in Gorotex tengono ecco sì perfettamente asciutte dopo il bagnetto belle queste scarpe non so se le ho prese